Buon Packaging a tutti! Oggi ragazzi ci sono arrivati due pacchi uno confezionato e spedito da BB Packaging e uno confezionato e spedito da un nostro confettito di cui non possiamo dire il nome ragazzi ma vi faccio una domanda ma volete che vi si spegni la luce in testa? Volete 7 anni di sfigazza perché si è rotto lo specchio? Volete le linguine alla tedesca perché i nostri amici crocchi sono bravi a spezzare le linguine o volete un caffè macchiato che ti macchia? Ragazzi affidatevi a un consulente esperto che sa quello che fa imballaggio protettivo e riempitivo interamente in carta riciclata green. Questo è quello che facciamo tutti i giorni, soluzioni nel mondo del packaging. Le linguine saranno al dente, rimanete in parlo con noi!